Questa partita è impossibile, questa è una partita impossibile, non possiamo fare niente qui Ma abbiamo testo, vabbè chi sta quando una spada è così Facciamo sopra le lenza solo, allora prima di tutto prendiamo questa cassa Ci sono degli individui qui, eccola qua, l'ho ucciso, ok Le sta inventando un altro, eccola qua, adesso lo andiamo ad uccidere un mio che c'era un altro Non l'avevo visto Ucciso anche questo, partiamo all'eprentissimo in questa partita Quello è morto così, da solo Vieni qui, vieni qui Vieni che pettacolo overdrive, ti faccio un culo così Distrutto, primo posto strameritato Ci sono tante casse a disposizione Se sto figlio di Troia non me le prendesse però, orco le moni Vieni qua, vieni qua Distrutto C'è Edgar qua dentro C'è anche un Mortis Spero che venga di qua, non è che no Uh, attenzione perché c'è carne di macello qui L'abbiamo preso tutti Vieni il signor Mortis Venga, venga, venga pure L'angelo bombe L'angelo bombe L'angelo bombe Vieni qua Distruggiamo tutti Distruggiamo tutti Oh mio dio signor Mortis Mortis in tutti i sensi due partite di fila perfette scontri di enti con questo con il fuoco io non ne voglio perché so già la fine che andrò a fare cerchiamo di inciderlo e ce lo mangiamo ci mangiamo anche entica quasi se non scappavo è lì edga è lì cerchiamo di mangiarcelo se ne scappa sempre si vede il piccoletto che ha paura il piccoletto è andato ad attaccare dove moriva dove moriva perché me lo sono mangiato alla fine si vabbè sparate così a caso che risolverete sicuramente i vostri problemi prima o poi dovete venire fino a qui se non potete morire con il fuoco va bene si vede che sei proprio di un'intelligenza tale porca puttana me lo avevo mangiato quasi porca puttana se non finivano i colpi se non finivano i colpi vabbè terza posizione ovviamente ce la teniamo ce la teniamo stretta perché anche questa era una partita perfetta purtroppo è andata a finire così e questo è duro quando ci riuniamo tutti qui così è dura un colpo un colpo ho ucciso c'è il signor scopa qua dentro ma che ci vuoi fare? mister scopoide volevi fottere me mister scopoide porca puttana ho ucciso anche quello come ho fatto come ho fatto incredibile senza praticamente senza salute sono incredibile non me ne capacito non me ne capacito le partite di oggi incredibili incredibili si attacco l'overday e qua faccio il macello che è morto prima? sono morto prima io sono morto prima io? no sono morto prima io peccato con due partite incredibili bellissime questa è la mappa mia preferita perché appunto posso usare questo personaggio con l'overday posso fare davvero il macello senza che nessuno venga a rompere i coglioni io ti ho visto che sei qua dentro che ti crede? devo solo trovare il modo adatto per distruggerti no 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 facciamo minchiate per favore oh mio dio e questa partita doveva andare a finire così purtroppo quando ti trovi di fronte un personaggio che ti spara da lontano e tu sei scoperto è la fine purtroppo va sempre così questo è sempre il fatto che questa mappa questa mappa mi piace per questo punto non mi piace per niente cosa vogliamo fare adesso? decidi te io mi vado a infilare qua dentro no 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 stavo scherzando stavo scherzando e vaffanculo però si vabbè spara come vuoi tutte e due da vicino siamo coglione mi ha visto quello mi ha visto ovviamente come cazzo ha fatto non lo so ma mi ha visto si uccidetemi tre di voi fatevi la guerra ma non rompete i coglione me io non lo so quello là l'ha vista a raggi X porca puttana è morto vaffanculo e vaffanculo pure a te non ci posso stare qua dentro porca puttana il coso della minchia un uccello che te lo ficchi nel culo questo uccello alla vista super porca puttana solo a questo dobbiamo stare attento per il resto noi siamo cortissimi in questa volta allora là sotto già c'è casino a me non mi piace per niente io cerco di infilarmi qui sperando che non mi rompano il culo prima di entrarci l'ho rotto io il culo no le bottiglie te le ficchi diritto nel culo scegli dei coglioni ovviamente poi cosa va a succedere va a succedere che spari a uno e ti vedono tutti evento annientamento allora evento annientamento vediamo che cosa facciamo in questo evento io non lo so non sono giocato moltissimo in questa cosa non mi fa dire che cosa succede perché ho dimenticato anche come funziona ah è vero dobbiamo uccidere dieci volte i personaggi qua chi muore prima dieci volte perde a Grazie a tutti